Siamo a Lecce, nel cuore del centro storico, alle nostre spalle Piazza Santo Ronzo e Santa Croce. Questa è una delle tante vie del centro storico sventrate da dei lavori sicuramente necessari. Ma sarà stato questo il periodo adatto per effettuarli, proprio al momento in cui Lecce può vivere di turismo e quindi portare anche dei contributi a quelle che sono le attività ricettive? Ecco, vi faremo vedere come appare Lecce in questo periodo. Tra l'altro nel centro storico moltissime sono le strutture ricettive, questa per esempio è una via dove tanti sono i ben the breakfast, quindi è una zona dove arrivano turisti e per arrivare devono fare questo tragitto. Turisti? Turisti sì, ma... Di dove? Sydney, Australia. Lecce è molto interessante, città, ma non è ottimale. Eh... Grazie! Area Grazie per la visione!